Una buona giornata, Buon lunedì e ben ritrovati con l'appuntamento di Mattino 6, la rassegna stampa di TV6. Oggi, come ogni lunedì, ovviamente ampio spazio alle pagine sportive dei quotidiani che già trovate in edicola. Però prima, nella prima parte, spazio alle aperture dei giornali, non solo di casa nostra, ma anche a quelli nazionali, per vedere anche le notizie principali dall'Italia e dal mondo. E poi, ovviamente, nella seconda parte, entreremo all'interno dei quotidiani e soprattutto vi faremo anche rivivere le emozioni di una domenica calcistica che, per il Pescara, purtroppo non ha riservato molte soddisfazioni, sconfitta 4-2 a Perugia, ma ieri era anche la giornata d'esordio del campionato di Serie D, Girone F, con le sette sorelle abruzzesi. In Serie C, invece, turno di riposo per il Teramo. Ma partiamo subito dalle prime pagine dei quotidiani locali. Vedete alle mie spalle già la prima pagina dell'edizione di Pescara del centro. Cominciamo proprio dall'edizione di Pescara per vedere le quattro edizioni del quotidiano. L'apertura è dedicata all'ospedale di Pescara. c'è il rischio infezioni. Ecco tutte le criticità nel dossier del garante degli anziani a Loretta Tobia. Questa è l'apertura del centro di Pescara che poi dà ampio spazio anche alla questione molto in questi giorni, in questo periodo, molto discussa, delle scuole sicure in Abruzzo. 9 su 10, dice il centro, attraverso una sua ricerca, sono poco sicure. 417 schede tecniche depositate in regione. Il quotidiano l'ha verificata e purtroppo il dato è abbastanza, se vogliamo, allarmante perché parliamo del 90% delle scuole che non sarebbero sicure. Allora c'è l'editoriale del direttore Primo di Ricola. Scuole, troppi silenzi sul rischio sismico di spalla. Dall'altra parte della pagina, ovviamente lo sport, il Pescara cade, pesante lezione dal Perugia. 4 a 2 per la formazione di giunti. Sempre a Pescara per la cronaca, evaso, palpeggia una donna, ma resta agli arresti domiciliari. All'interno anche la cronaca nazionale e internazionale, Corea del Nord, test nucleare, scatena due terremoti. E poi, Piercarlo Padoan a Cernobbio, la crescita del paese, dice, sarà duratura. Ancora cronaca, gli stupri di Rimini, il capo branco è in manette, è un richiedente asilo. Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara. Andiamo sulla prima pagina dell'edizione di Teramo. Caccia ai pirati, decisivi i video. Torniamo sulla questione del ciclista ucciso a Villa Rosa di Martinsicuro. I carabinieri esaminano i filmati per scovare gli assassini. E poi, invece, a Giulianova, nelle cronache, il primo cittadino, Francesco Mastromauro, che dice, mi chiedono di candidarmi. Aveva escluso delle probabili dimissioni da primo cittadino di Giulianova per concorrere a tutt'altro poltrono. Vedremo, insomma, come andrà a finire. Per lo sport, invece, sull'edizione di Teramo, spazio al basket, a Roseto. Parla il nuovo arrivo, l'americano Darrell Combs. Roseto dice, è il posto giusto, evidentemente, per confermarsi ad alti livelli. Noi speriamo che sia così. Edizione dell'Aquila, del centro ricostruzione, incassa e scappa. l'Aquila è il presidente di Federegbi Morelli, dalle imprese, niente soldi al territorio. E poi, in alto, il festival, l'Aquila riparte a tempo di jazz, il ministro Franceschini, in platea. all'interno, nelle cronache, ad Avezzano, un microchip, per tenere a bada il diabete. E poi, spazio per lo sport alla Serie D. L'Aquila parte col piede giusto, il Monticelli va a K-O per 2-1. L'Aquila, l'unica abruzzese con uscita, con tre punti in tasca. Dalla giornata di ieri, la prima del girone F di Serie D. Chiudiamo le quattro edizioni con quella di Chieti, Lanciano, Vasto. Menze scolastiche, nuove regole. A Chieti si cambia. Dopo le proteste, saranno i genitori ad assaggiare per primi i pasti, che poi, evidentemente, saranno serviti ai propri bambini. a Vasto, nelle cronache, bruciano campi scoperti e multati. In tre, a Lanciano, carcere, agente aggredito da un detenuto. Vediamo adesso la prima pagina del messaggero, dunque, cambiamo quotidiano. In apertura, la grande bellezza del jazz. Successo all'Aquila della Maratona, nonostante il tempo incerto e il freddo pungente. il ministro Franceschini, una sfida importante, riportare la gente in queste strade e assicura ci saremo anche l'anno prossimo, nel 2018. Ma saliamo in alto per vedere lo sport delfino a Perugia. Tanti errori in difesa, alcuni finisce 4-2 per i grifoni fallito. Dunque, il primo test in trasferta nella foto, Coulibaly con Han, nordcoreano, peraltro, ieri sera a segno. In alto, a Pescara, il sindaco Alessandrini raduna i suoi in conclave, si torna anche sulla questione incendi. Monte Morrone, il rogo, per fortuna, è spento, ma l'emergenza purtroppo non è finita. A Lanciano, invece, boom per il Mastro Giurato, bagno di folla in centro per la manifestazione. Di spalla per i trasporti tra la tua e i sindacati si inasprisce la vertenza. Scendiamo a centro pagina la prima nevicata sul Gran Sasso, temperature a piccola ed ecco qua il Gran Sasso. Ovviamente, siamo in quota con i primi fiocchi, nemmeno proprio pochi, di neve in basso. A Monte Reale ha occultato il cadavere per riscuotere la pensione il figlio della donna trovata morta. Chiudiamo con le prime pagine regionali, andiamo sulle prime pagine nazionali. Qui, ovviamente, l'apertura e, come vedrete, lo spazio principale a livello grafico è per quello che è successo per il test in Corea del Nord e, infatti, partiamo dal Corriere della Sera, la sfida di Kim al mondo, testata la bomba H, terremoto del 6,3%, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice, attaccarlo vedremo. In Corea del Nord cinque volte più potente di Nagasaki, Putin, soluzione politica oppure diplomatica. A Rimini, invece, ha arrestato il capo della banda e c'è anche il racconto io poliziotta e quei ragazzi feroci. L'agente di polizia Francesca Capaldo arresta Gerlin Butungu, il capo della banda di Rimini per la politica di Maio e Salvini alla prova non siamo anti-europei. La Repubblica anche qui spazio alla questione Corea del Nord Corea la bomba H di Kim gli USA studiano la guerra annuncio di Pyongyang il Pentagono avverte possiamo annientarvi un test a 10 chilometri di profondità che ha scatenato un terremoto di livello 6,3 di spalla il ministro dell'economia Piercarlo Padoan che si dice ottimista ripresa solida adesso partono anche gli investimenti per la cronaca le violenze di Rimini preso il capo gli stupratori non si pentono andiamo sulla stampa la bomba di Kim spaventa il mondo con danno unanime dopo il test nucleare gli USA dicono imponente azione militare se ci minaccia l'ordigno ad idrogeno testato dalla Corea del Nord è 5 volte più potente di Nagasaki pensate pronto per armare un missile Trump dice è inutile discutere sulla stampa parla l'ex premier Mario Monti Di Maio a Cernobbio borghese e moderato è stato un bene che non ci siano state le elezioni anticipate dice l'Italia ora cresce e ha risolto alcuni problemi in Germania sfida in tv tra i due candidati Angela Merkel il cancelliere e Schulz dei socialdemocratici sfida in tv un duello in guanti bianchi antiterrorismo Genova sorvegliata speciale gli agenti ispezionano il sottosuolo quattro indagati per contatti con gli estremisti andiamo al sole 24 ore quotidiano economico e dunque l'apertura è un po' differente per le tasse comunali sanatoria limitata luce verde a Roma Milano e Napoli no da Torino e Firenze entro il 2 ottobre possibile aderire alla rottamazione di quasi 72 mila liti fiscali davvero una cifra imponente e poi la questione voucher compensi blindati da monitorare il tetto dei 2.500 euro per ciascun prestatore il punto sulle sanzioni nelle circolari dell'Inps e dell'ispettorato del lavoro il fatto quotidiano qui invece l'apertura è dedicata alla questione migranti e alle parole del ministro Minniti ora i diritti umani il ministro dell'interno dice mi gioco la carriera sull'ONU nei campi in Libia e poi sempre per la politica così il premier Gentiloni si prepara a restare a Palazzo Chigi in alto invece ritroviamo la questione nordcoreana i test di Kim il folle i test di Kim il folle provocano un mega terremoto e poi in Gran Bretagna la Gran Bretagna invasa dalle scuole islamiche private lo Stato finanzia gli istituti e l'integrazione queste vengono definite dal foglio diretto da Travaglio una contraddizione il messaggero pensioni di invalidità vola la spesa in 15 anni si legge i costi per le indennità civili sono raddoppiati arrivando a quota 16 miliardi Padoan a Cernobbio la crescita è ormai strutturale adesso la priorità sono i giovani in alto per lo sport Formula 1 ieri era il giorno del Gran Premio di Monza delusione Ferrari perché Lewis Hamilton domina Vettel solo terzo e adesso il tedesco della Ferrari insegue nella classifica del mondiale piloti proprio l'inglese della Mercedes politica internazionale la Corea del Nord ha la bomba H gli USA pronta alla risposta militare e per la questione migranti Bruxelles versi 6 miliardi per il fronte libico sono le parole del Presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani che dice soltanto così si potrà fermare il flusso dall'Africa il tempo Grand Hotel Vaticano Santo Business soltanto poche parrocchie ospitano i rifugiati ma la chiesa 115 mila immobili tanti riservati ai turisti politica le strategie dell'ex premier Renzi ci ripensa vuole fare il senatore poi in arrivo la manovra di fine anno cresce il pil più entrate e torna il partito della spesa a centropagina la fotonotizia rimini fermato il congolese di 20 anni era un richiedente asilo per motivi umanitari lo stupratore con il permesso di soggiorno e poi e poi l'opinione di Alessandro Meluzzi qualcuno ha sentito la Boldrini si chiede libero Tremonti ispirato chi fugge dalla miseria la porta tutta a noi l'immigrazione farà perdere le elezioni al PD distribuire nei paesini chi arriva terrorizza i cittadini la sinistra giacobina tradisce patria e nazione lo Ius Soli è un'ingegneria sociale queste le parole dell'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti la fotonotizia è dedicata alla Corea del Nord il coreano Kim lancia un ordigno e provoca un sisma questo pazzo si legge continua a sganciare bombe e nessuno gli fa niente poi in basso per la politica la visita a Cernobbio dei due leader antisistema Di Maio Movimento 5 Stelle vede il potere da vicino e si candida a euro cameriere e Salvini promette agli industriali l'iretta e minibot per farli ricchi il secolo XIX come votare si ricomincia rebus al buio la legge elettorale mercoledì approda in commissione Renzi boccia l'ultima proposta di Berlusconi no al proporzionale e anche qui la Corea le questioni coreane ma che riguardano insomma gli equilibri internazionali la bomba H di Kim scatena Trump se minacciati dice il presidente statunitense reagiremo chiudiamo con il mattino lavoro solo al sud e ancora crisi rispetto al 2008 mancano 380 mila posti il centro nord ne ha 320 mila in più il ministro dell'economia Padoan assicura la ripresa c'è ma non possiamo fare una manovra elettorale di spalla Corea del Nord shock pronta la bomba H Trump la diplomazia a questo punto non basta davvero più l'analisi che vediamo di Gianandrea Gagliani l'attomica come minaccia perché Kim è sicuro Gagliani non attaccherà e poi a centro pagina tra cronaca e sport leggiamo prima lo sport caro Ventura così rovini anche in signo ovviamente siamo sulle colonne del mattino quotidiano partenopeo che dà un consiglio al CT della Nazionale soprattutto sulla posizione in campo del giocatore del Napoli il processo al CT dell'Italia per la cronaca Rimini è arrestato un congolese stupro in spiaggia il capobranco è un rifugiato e poi il viminale che dice il 37% delle violenze è opera degli stranieri andiamo adesso sulle pagine sulle prime pagine dei quotidiani sportivi cominciamo dalla gazzetta dello sport che spera davvero che sia la Ferrari che l'Italia rialzino la testa sulla testa Ferrari e Italia vediamo in alto la spiegazione che è molto semplice perché Hamilton domina a Monza vette il terzo sorpassato nel mondiale rabbia del presidente della Ferrari Marchionne che dice imbarazzante mi girano le balle ma restano ancora sette gran premi con alcuni circuiti favorevoli alle rosse questo per quanto riguarda la parte superiore della pagina in cui si spera nella riscossa delle rosse in basso invece la figuraccia di Madrid dell'Italia del calcio non cancella il lavoro svolto e scatta lo slogan in Russia con furore già domani nell'altro test di qualificazione al mondiale contro Israele a Reggio Emilia serve una risposta e poi per le qualificazioni mondiali il Belgio è già al mondiale ma attenzione perché Lussemburgo niente meno ha fermato la Francia degli strappagati per esempio di Kylian Bappé in basso ovviamente spazio alla serie B perché in B volano Perugia e Parma il nordcoreano Anna ancora in gol in testa pure Carpi e Frosinone quattro squadre a punteggio pieno dopo due giornate basket gli azzurri battuti ma non piegati dai giganti lituani gli europei di basket ieri sconfitta per la nazionale azzurra di Ettore Messina ciclismo alla vuelta Nibali nella Sierra rimbalza su Frum ora dice è davvero imbattibile il Corriere dello Sport invece ha ampio spazio al calcio al calcio soprattutto Meneghino l'acuto di Milano i sei successi in campionato in Coppa lanciano i rossoneri l'obiettivo è la Champions parliamo del Milan Nerazzurri rinati con Spalletti possono di nuovo sognare Milan e Inter finora hanno sempre vinto la città al top in Europa in alto si torna sulle qualificazioni al Mondiale di Russia 2018 la Bosnia di Dzeko e Pjanic spaventa l'Italia di Madrid Ventura sotto processo rischia uno spareggio pieno di difficoltà il Belgio invece non ha problemi è passato la Francia ha avuto un flop clamoroso in basso Serie B il Bari cade Perugia lezione a Zeman Pugliesi K.O. Empoli 3-2 Frosinone in volo Super Parma Marchionne presidente della Ferrari che definisce la rossa di ieri imbarazzante mi girano l'ira del presidente Hamilton trionfa e nel mondiale sorpassa Sebastian Vettel adesso andiamo entriamo cominciamo ad entrare subito nelle colonne interne perché poi nella seconda parte invece vedremo anche lo sport ma soprattutto i servizi delle partite di ieri allora iniziamo il nostro viaggio all'interno del quotidiano il centro e poi faremo lo stesso con il messaggero perché si torna sulla questione della vulnerabilità sismica in Abruzzo scuole 9 su 10 risultano poco sicure la regione ha 417 schede tecniche e il centro le ha verificate e poi c'è anche la classifica delle 40 scuole più vulnerabili in basso da Ari ad Avezzano tanti altri casi a Canzano la primaria sede del centro operativo con indice sismico negativo l'altra pagina ovviamente è uno studio approfondito che prende due pagine l'esperto della regione l'ingegner primavera che dice non sono da chiudere ma vanno adeguate subito il capo parla l'ingegner primavera capo del dipartimento che ha raccolto i dati arrivano da comuni e province gli elenchi servono per finanziare i lavori entriamo a Pescara dossier sanità rischio infezioni e personale tutte le criticità dell'ospedale nel report del garante degli anziani Loretta Tobia l'elenco delle carenze riscontrate a geriatria pazienti nei corridoi perché i 46 posti letto a disposizione non bastano è un focus che dura da qualche giorno sull'ospedale di Pescara da parte del quotidiano il centro visite illegali vogliamo i nomi l'ordine dei medici il dubbio danneggia i colleghi che si sacrificano ogni giorno problemi anche a medicina evidentemente medicina caldo super nessun sistema di climatizzazione nel reparto da 1.400 ricoveri insomma tanti problemi evidentemente per l'ospedale di Pescara il primario di Berardino lavorare così è dura abbiamo richiesto ventole anche a pale a estate d'afa insopportabile anche a emodialisi 2 e urologia sempre a Pescara cronaca evade e palpeggia una donna ma resta i domiciliari polemiche dopo la rissa piovono critiche per la decisione del giudice Foschi non c'è certezza della pena Andrini troppo buonismo d'urbano servono più sicurezza e prevenzione di spalla lavori in via Prati da oggi senso unico alternato in basso sulla Tiburtina incendio nella casa della droga distrutta la roba dei disperati e a Sant'Andrea folla i funerali del balneatore Spina sempre a Pescara ladri scatenati cinque furti in casa in una notte ride tra città Sant'Angelo ed Elice portati via 10.000 euro la banda trova i contanti e la chiave di una cassaforte devincenti alla festa dell'unità zona economica speciale tra Abruzzo e Molise e a Montesilvano completati i lavori del marciapiede di Via Lazio e dunque una buona notizia per i cittadini di Montesilvano a Chieti poliziotto aggredito durante i controlli Lanciano detenuto gli sostrae una mazza di ferro usata per verificare le sbarre delle celle la Will PA più tutele per chi lavora leggiamo Ruggero Di Giovanni la polizia penitenziaria non può e non deve essere mandata allo sbaraglio occorre valutare le modalità di protezione sempre per la cronaca a Lanciano rubano due auto per fare un colpo nel negozio furto sventato volevano svaliggiare una rivendita di vestiti i carabinieri però recuperano tutto a vasto bruciano i campi in tre scoperti e multati trovati i responsabili dei danni in via San Biagio e alla Maddalena sanzioni fino a 10.000 euro all'Aquila in cassa e fuggi dopo i lavori sisma e ricostruzione che ovviamente non può che essere il tema centrale del capoluogo abruzzese Morelli al sindaco le imprese aiutino il territorio con una parte dei guadagni e poi l'open data è il progetto di ricerca che coordina le procedure edilizie in basso per la cronaca madre morta nascosta in casa per la pensione a Montereale l'uomo ora è accusato anche di truffa l'anziana donna ricordata durante la messa chiudiamo con prima di aprire prima di cambiare quotidiano chiudiamo con la pagina di Teramo Corsa Mortale ciclista ucciso e caccia ai pirati dai video tracce degli assassini dopo la tragedia di Villa Rosa nessuno si è costituito i carabinieri esaminano i filmati delle telecamere ci sarebbero dei fotogrammi utili a individuare le due auto ma per ora non si leggono le targhe di chi ha ucciso la vittima carino stroziere gli altri incidenti di sabato migliora il 19enne di Alba che si è schiantato con lo scooter resta in pericolo di vita l'imprenditore 38enne di Martinsicuro sbalzato da un muletto e poi a fondo pagina cambia il meteo cade la prima neve sul Gran Sasso una spolverata di qualche centimetro all'altezza del rifugio Franchetti a Giulianova per la politica Mastro Mauro mi chiedono di candidarmi alle elezioni politiche prima di entrare prima di cambiare quotidiano noi ci dobbiamo fermare però adesso poi entreremo sulle colonne del messaggero adesso le previsioni del meteo pubblicità e poi torniamo con la seconda parte seconda parte di mattino 6 riprendiamo da dove avevamo terminato dalle pagine interne dei quotidiani di casa nostra abbiamo sfogliato fin prima dello sport il centro adesso cambiamo quotidiano andiamo sul messaggero ripartendo dalla pagina di Pescara il sindaco Alessandrini raduna i suoi in conclave 10 gli argomenti da discutere con giunta e consiglieri in aula c'è attesa per il piano sociale e la sessione urbanistica l'ordine pubblico è il tema prioritario l'asse con Teodoro per la lotta al degrado e c'è il rebus del mercato etnico il meeting leggiamo sarà a fine mese Alessandrini dice penso di tenerlo all'aurum oggi tavolo politico aperto ai dirigenti per fissare gli obiettivi raffica di furti rubano anche i bambini 2000 euro colpi in serie a Elice e Città Sant'Angelo la banda ha ripulito anche due salvadanai dei piccoli a sorpresa erano pieni di soldi immaginiamo davvero la delusione di questi poveri bambini che avevano fatto evidentemente tanti sacrifici e tante rinunce per mettere da parte dei soldi lavori in via Prati e segnaletica vicino alle scuole teatro a spoltore invece teatro e fuochi nella serata della spoltoresità andiamo all'Aquila adesso la grande bellezza alle 99 cannelle il jazz ha fatto un'altra magia il ministro Franceschini è stato una grande sfida a riportare la vita in queste piazze e strade ci saremo anche nel 2018 Paolo Fresu dice emozionato un successo che è merito di tutti i jazzisti italiani scendiamo perché Mario Biondi è il mattatore dopo la non stop entusiasmante tra vie e cortili del centro coinvolgente la street parade itinerante per la cronaca occultato il cadavere per riscuotere la pensione e a campo imperatore temperatura di un grado e come avete visto c'è anche la prima neve la buona notizia è che dopo tanti giorni sul morrone il rogo è spento ma non è finita il terreno privato delle radici è fortemente indebolito e si teme la caduta di Slavine e Frane quando arriveranno le grandi piogge fiamme domate dopo il temporale notturno e quello di giorno e i lanci di Canadair elicottero con l'attacco da terra dei pompieri confagricoltura dopo il fuoco diciamo no ai rimboschimenti cambiamo pagina andiamo a Chieti perché i teatini sono sempre più vecchi cresce il numero degli stranieri dagli ultimi dati la fotografia della città gli over 75 sono pensate un quarto della popolazione il comune investe 4 milioni di euro per il sociale ecco quali sono gli obiettivi l'assessore De Matteo situazione di Chieti in linea con quella nazionale in crescita l'aspettativa di vita a Lanciano boom del mastro giurato bagno di folla in centro scendiamo a vasto anche geograficamente scontro sul viadotto ferito un motociclista e poi sempre per la cronaca supercarcere a Lanciano nel caos aggredito un altro agente a Teramo scuola chiusa l'appello del comitato di quartiere la zona cona non possiamo perdere altri servizi fondamentali il comune non sa ancora se abbattere o ricostruire il plesso in Val Vibrata false dipendenti comunali truffatrici e poi sempre in basso auto pirata ricercata oggi i funerali di Carino Strozieri e una BMW scura che l'altra mattina lo ha travolta e poi è fuggita una folle corsa in centro città per la politica per il PD auspica a ottobre un segretario condiviso e a Giulianova vandali al Molo Sud abbattuti tutti i paletti e poi sempre a Giulianova una bella notizia un ragazzino ha evitato che l'incendio fosse una tragedia leggiamo è stato un ragazzino di 14 anni a evitare che l'incendio di sabato sera in un appartamento delle case popolari dell'Ater dietro lo stadio Fadini potesse tramutarsi in qualcosa di più serio aveva notato delle fiammelle lungo il muro del balcone all'ultimo piano dell'abitazione per questo aveva avvertito il padre che notata la stessa cosa si è portato nel condominio e ha suonato tutti i campanelli davvero bravo questo ragazzo ragazzino di 14 anni che ha evitato davvero che quella delle case popolari dell'Ater di Giulianova potesse diventare davvero una tragedia complimenti adesso apriamo la pagina di sport e non possiamo che partire dal Pescara tra poco vedremo il servizio del nostro Paolo Lorenzetti ma una cosa è certa a Pescara quanti errori abbiamo vissuto ieri sera la partita del Curi di Perugia i bianco-azzurri falliscono il primo esame in trasferta e perdono nettamente 4 a 2 sul campo del Perugia decisive disattenzioni sulle palle inattive una fase difensiva che lascia davvero molto a disperare c'è da rimarcare che il gruppo non si è mai arreso dopo il doppio svantaggio e questo potrebbe essere un segnale positivo leggiamo anche l'attacco del pezzo perché è abbastanza emblematico la strada per Zemallandia è ancora lunga è piena di ostacoli al primo esame esterno della stagione il Pescara cade malamente 4 a 2 a Perugia vediamo anche le reazioni abbiamo ascoltato anche ieri sera Andrea Coda avevamo sofferto di più contro il Foggia dice il difensore bianco-azzurro Benali deluso l'altro giocatore che si è presentato ai microfoni non abbiamo fatto le cose giuste gli avversari ci hanno fatto male davvero molto male in contropiede e poi vediamo anche le parole di Zdenek Zeman che tra un po' sentiremo siamo stati vogliosi ma disordinati dice il tecnico che lascia il terreno del Curi con l'area di chi ha molte cose da dire al rientro negli spogliatoi alla squadra scuro in volto il Boemo dopo i 4 gol subiti e la Tanta troppa imprecisione e confusione nella fase offensiva e allora adesso noi ci andiamo a vedere il resoconto della partita il Perugia batte il Pescara 4 a 2 il servizio di Paolo Renzetti e a seguire le dichiarazioni proprie del tecnico Boemo del Pescara Zdenek Zeman vediamo sagra del gol Renato Curi dove a far festa è però la formazione Umbra che senza fare chissà cosa approfitta delle ingenuità difensive del Pescara conquistando una vittoria rotonda e per certi versi incredibile in un match comunque spettacolare per il Delfino arriva così la prima delusione della stagione con l'imperativo di sistemare una difesa che crea già prensione fra i tifosi in vista della gara di venerdì prossimo con il Frosinone ma le note negative portano anche i nomi di Coulibaly e Baez apparsi in serata sicuramente negativa in ombra anche Pettinari dopo la tripletta con il Foggia bene molto bene Benali l'ultimo ad arrendersi alla sesto arriva la prima emozione di marca Umbra con lo spauracchio nordcoreano Han che prende la mira mettendo il pallone di un soffio al lato dei pali della porta difesa da Pigliacelli al quindicesimo di Carmine viene murato per due volte dai difensori della Pescara in area prima di una colossale occasione mancata da Baez che liscia il pallone praticamente a porta vuota la gara è viva è giocata fra due squadre che non badano a tatticismi con il Perugia che trova il vantaggio al ventitresimo con Di Carmine che sugli sviluppi di una punizione insacca due passi da Pigliacelli dopo la respinta corta dell'estremo Biancazzurro la reazione del Pescara è confusa e nervosa anche perché i meccanismi di gioco non sembrano funzionare bene a centrocampo e con la squadra di Giunti che si rende pericolosa al trentacinquesimo con Belmonte che sul calcio piazzato sfiora i legni della porta adriatica ma per la difesa del Delfino non è serata visto che al trentanovesimo An non sbaglia porta vuota dopo la traversa di Bianco seguita di un errore in disimpegno di Zampano regalando così alla sua squadra il gol del raddoppio per la formazione di Zamen è una mazzata con il doppio vantaggio Umbro che fa calare i titoli di coda del primo tempo in cui non si è visto certo un bel Pescara al settimo della ripresa c'è poi il break della formazione adriatica con Benali che recupera un pallone importante sulla tre quarti e crossa centro area per Brugman che al volo con un gol capolavoro fa 2-1 mettendo il pallone all'incrocio il Pescara ci crede e al tredicesimo è per rotta di incornare sopra la traversa gara riaperta almeno per un po' e Pescara rinvigorito così come i suoi tifosi in curva sud in campo il Perugia però poco dopo trova il 3-1 con Monaco dopo un tocco con la mano di Belmonte che avrebbe meritato con la VAR l'annullamento della rete passa un minuto e Belmonte proprio lui atterra in area Benali con Aureliano di Bologna che indica il dischetto e con il giocatore libico che va a trasformare dagli 11 metri il penalty per il 3-2 ma la difesa non è il piatto forte del menù Zemaniano con Di Carmine che così approfitta ancora una volta dell'ennesimo regalo della retroguardia adriatica per il gol del 4-2 per Pigliacelli e Soci una nuova mazzata quando sembrava che potesse avverarsi la rimonta e così al novantesimo fanno festa i tifosi di casa con il Pescara che volge così già lo sguardo all'anticipo di venerdì sera all'Adriatico con la corazzata Frossinone sperando di correggere in fretta i problemi in difesa ma anche a centrocampo Noi non sono arrabbiati a parte del calcio penso che primo tempo la squadra ha fatto bene mi sono in difficoltà per lì già tante ore ci sono finite tante palle in tribuna ma non è riuscita a trovare gol poi abbiamo preso gol sulla sponda su pala da fermo che era evitabile secondo anche lì disattenzione di nostro giocatore su 2-0 era difficile però la squadra mi ha soddisfatto perché ha voluto ha votato fino alla fine è riuscita ad arrivare su 3-2 anche se non ha giocato più con grande ordine ma ha giocato con tanta voglia e alla fine abbiamo preso dei contropiedi perché è normale che su 3-2 la squadra si sbilancia a cerca di parigiare Pescara misteri e questa sera probabilmente ha tirato meno in porta rispetto alle altre gare quella col Foggia anche quella in Coppa Italia è d'accordo? Noi abbiamo avuto un'occasione facile primo tempo che purtroppo abbiamo sbagliato da mezzo metro poi non abbiamo costruito abbiamo giocato più da esterni e non siamo riusciti a fare ultimo passaggio poi ripeto per me primo tempo la squadra ha giocato la seconda ha giocato disordinata e se si gioca con disordine si paga sempre Zampano era titolare l'anno scorso Zampano è stato richiesto da un mercato anche dalle squadre di Serie A perché è bravo io non ho sentito tante offerte per Crescenzi per me un giocatore che l'anno scorso ha fatto in Serie A ha momenti molto bene ma c'è 30 giocatori per me possono giocare tutti mister a proposito di singoli in queste due gare abbiamo visto un culibali un po' sottotono di questo giocatore che lo scorso anno aveva fatto molto bene l'inizio di stagione non è stato positivissimo per lui la sua forza dovrebbe essere forza fisica per ripartire per buttarsi sui spazi invece per ora non ci riesce anche tecnicamente c'è dei problemi di controllare il palone deve crescere un 99 non è facile per 99 giocare queste le dichiarazioni non replicano lo spettacolo visto contro il foggia squadra fumosa e ingenua gli umbri non perdonano gli errori leggiamo anche il pezzo del collega almeno l'intro del pezzo del collega Luigi Di Marzio che dice rimandato per il momento pescara fumosa e ingenua Perugia pratico e vincente il Delfino dunque non è riuscito a dare un seguito allo scoppiettante 5-1 d'esordio contro il foggia lasciando le penne al Curi un'analisi molto approfondita e anche la questione il focus su due personaggi problemi burocratici del sole in tribuna in prestito dalla Juve non è stato ancora ratificato voi sapete del passaggio di Ferdinando del sole alla Juventus ma poi del contestuale prestito al Pescara e dunque rimarrà in biancazzurro fino al termine della stagione un problema burocratico non ha permesso di ratificare il prestito dalla Juventus al Pescara e dunque non era schierabile anche volendo e invece a proposito di Corea del Nord ma per fortuna in questo caso la bomba H non c'entra assolutamente niente c'entra il senatore Antonio Razzi che elogia Han e dice l'avrei voluto con la maglia del Pescara il senatore a Curi per applaudire il talento della Corea del Nord le pagelle dei bianco-azzurri il talento di Brugman non basta male nelle retrovie deciso passo indietro di Pettinari che fa scena muta in avanti e Proietti non convince in regia vediamo alcune delle pagelle insomma 5 e mezzo Pigliacelli 5 e mezzo Zampano voti normali per in una partita che ha visto una sconfitta 5 coda 5 e mezzo per Rotta 5 e mezzo anche Mazzotta 5 e mezzo Coulibaly 6 per Valzania che è entrato al diciottesimo della ripresa 5 e mezzo per Proietti Gans entrato anche lui al diciottesimo della ripresa 5 e mezzo Brugman e Benali sono i migliori con un 6 e mezzo non tanto e non solo per i gol perché effettivamente sia Brugman che Benali sono stati i migliori 5 per Pettinari che aveva fatto invece davvero era stato incontenibile domenica scorsa invece stavolta passo indietro 5 e mezzo per Baez che è stato schierato proprio per l'indisponibilità di Nando Del Sole il migliore Gaston Brugman il peggiore Stefano Pettinari nelle foto negli altri risultati di Serie B Bari K.O. ad Empoli esplode il Parma a Novara a Vivarini il derby abruzzese contro Fabio Grosso 3 a 2 per l'Empoli Emiliano in vetta con Perugia Carpi e Frosinone e il Frosinone sarà il prossimo avversario dei Biancazzurri venerdì sera e a proposito di Frosinone c'è un abruzzese come Daniel Ciofani altra pagina dedicata a Perugia Pescara le dichiarazioni di Zeman errori pagati a caro prezzo il tecnico abbiamo preso due gol su palle inattive ma la squadra ha lottato fino alla fine buona prova nel primo tempo e vedete in una delle due foto i tifosi del Pescara a corsi a Perugia dopo ovviamente rinvigoriti dopo il 5 a 1 al Foggia si aspettavano certamente una prestazione ben diversa da quella che si è vista ieri sera Benalino non fa drammi la serie B è lunga sono 42 giornate effettivamente sconfitte come questa possono farci crescere Coda loro erano messi bene in campo di positivo c'è che non abbiamo mollato come detto il Pescara tornerà in campo venerdì per l'anticipo contro il Frosinone cambiamo adesso andiamo in Lega Pro anzi in serie C a dire la verità Girone B Caidi spinge il Teramo che ieri ha riposato a Vicenza senza paura domenica i Biancorossi torneranno in campo almenti dopo il turno di riposo l'esperto centrale lancia la sfida proveremo a giocarcela contro una delle squadre più forti del Girone oggi il Teramo riprende gli allenamenti da valutare Amadio e Barbuti tifosi in fermento per la trasferta in Veneto e però ieri si è giocato perché riposava solamente il Teramo e il caso più particolare si è verificato al Recchioni di Fermo si bruciano i riflettori sospesa Fermana-Samb i locali giallo-blu erano in vantaggio nel derby a punteggio pieno Renate e Pordenone si riscatta il Padova la vera sorpresa di questo raggruppamento è certamente il Renate che ha vinto anche a Salò per 1-0 ed è a punteggio pieno serie C che ritroviamo anche sulle colonne del messaggero parla il direttore sportivo Giorgio Repetto Teramo ottimista per il campionato il DS Repetto tira il bilancio dopo il mercato siamo una squadra giovane rispettati gli obiettivi ci attende un girone equilibrato a Vicenza sarà un duro test e come vedete anche qui da verificare le condizioni di Stefano Amadio apriamo adesso la pagina di serie D partendo proprio dalla spalla di questa pagina il Pineto stecca la prima a Matelica gol a freddo doppietta di Magrassi per il team di Amaolo una partenza dunque condizionata sconfitta per 2-0 sconfitta anche per il San Nicolò ad Agnone sconfitta di rigore piegato prima da Balzano e poi da Barbosa su calcio di rigore un accenno in basso anche al calcio A5 Acqua e Sapone 8 gol nel test contro il Bisceglie ma ovviamente tanto spazio c'è per la serie D sul messaggero e poi vi faremo vedere anche sul centro beffa per il Francavilla perché il Fabriano si conferma bestia nera dei giallorossi 2-3 giallorossi di Ervese che cadono in casa rimontano due gol ma poi cedono al minuto 96 l'apertura di pagina la parte più ampia è per l'Aquila l'unica abruzzese che vince buona la prima vittoria in extremis contro un Monticelli ridotto in nove decide un guizzo di Boucher di spalla invece sconfitta per il Nero Stellati Pratola sogno svanito doppio vantaggio e poi il crollo sempre a proposito dell'Aquila in basso le parole di Battistini tecnico rosso-blu ci siamo complicati la vita nel primo tempo ma il successo è meritato è il tecnico dell'Aquila che dice ho visto lo spirito di sacrificio che volevo adesso siamo carichi ancora Serie D Vastese un punto e tanti rimpianti a San Marino che si era portato in vantaggio e poi Leonetti ha fermato l'1-1 per gli Aragonesi ma Fiore fallisce un calcio di rigore e vedete proprio nella foto Nicola Fiore Colavitto il tecnico della Vastese che dice non sarà facile far punti contro questi avversari il tecnico è soddisfatto ora però bisogna migliorare il gioco l'Avezzano a cui manca solo il gol ma i bianco-verdi ci sono finisce 0-0 Avezzano Iesina Dos Santos che fallisce due grosse palle gol le parole del tecnico Federico Giampaolo che dice ho visto dei segnali positivi l'allenatore quando saremo al completo la musica certamente cambierà vediamo adesso scendiamo di categorie poi andremo sul centro per le pagine di D un gol di Miocchi rovina l'esordio al Giulianova il paterno sbanca il Fadini molto a sorpresa con una rete nel finale ai giallorossi non basta creare parecchie buone occasioni le parole del presidente del Real Giulianova Bartolini ho fatto i complimenti alla mia squadra torti invece prestazione giudiziosa ma dobbiamo ancora crescere e l'altra clamorosa notizia della giornata è la sconfitta del Chieti che figuraccia nero-verdi travolti in casa dall'alba triatica per 0-3 doppietta di Di Sante gol di Veccia teatini davvero irriconoscibili ancora in basso sempre per l'eccellenza Martinsicuro spuntato 0-0 con il River e invece Penne decide Camporesi ma che fatica cambiamo adesso torniamo sulle colonne del centro per vedere qui le pagine dedicate alla serie di l'Aquila batticuore trova il jolly nel finale rosso-blu piegano il Monticelli ridotto in nove uomini Boucher decide la sfida nei minuti di recupero dopo il pari ospite e poi la dedica particolare proprio del match winner Boucher e la maglia il gol per papà in basso le parole del tecnico Battistini la squadra deve crederci sempre il tecnico elogia il gruppo anche un minuto in campo è un pezzo di vita in tribuna e lo vediamo nella foto anche il sindaco appena eletto dell'Aquila Pierluigi Biondi per assistere alla gara vittoriosa dei rosso-blu sempre serie di Francavilla cede alla bestia nera Fabriano Cerreto sotto di due gol la squadra riesce a raggiungere il pareggio ma una conclusione di 25 metri vanifica tutti gli sforzi Lavastese invece spreca un calcio di rigore e ottiene solo un pari San Marino Biancorossi già in palla sfiorano il colpaccio nell'episodio decisivo Fiore si fa respingere il tiro da Fall le interviste in casa Francavilla iervese sconfitta difficile da digerire l'allenatore giallorosso salva la reazione della squadra sullo 0-2 e invece in casa salva stese con la vitto soddisfatto dice non era facile risultato giusto ora prepariamo bene le prossime sfide ancora serie D Lavezano in costruzione smarrisce la strada del gol la Iesina alza le barricate e impone lo 0-0 timidi progressi in casa bianco verde in attacco hanno pesato le precarie condizioni atletiche di Branicchi e di Dos Santos Giampaolo però chiede pazienza un mese per oliare la macchina siamo ancora un po' indietro sconfitta per il San Nicolocci che ci ha provato ma l'agnonese ribalta i biancoazzurri De Santis porta i vantaggi suoi con un colpo di testa Balzano pareggia e un rigore sfiorato da Gori costa il K.O. Altre purtroppo altre brutte notizie perché Magrassi stende il pineto con una doppietta una rete per tempo premia i marchigiani del Matelica Mariani ci prova ma colpisce il palo e bisognerà vedere anche le condizioni di Cercelluti uscito infortunato dalla sfida di Matelica Nero Stellati due gol e la grande illusione vince poi il Castelfidardo per quattro reti a due in eccellenza in eccellenza figuraccia Chieti Alba Valanga prestazione imbarazzante dei Neveroverdi che a fine partita si scusano con i tifosi sotto la curva Volpi e ovviamente Trevisan il presidente non può che essere deluso caos in biglietteria altre partite di eccellenza Del Gallo parte subito forte Acqua e Sapone buona la prima Camporesi fa volare il penne la Miterrina sbatte sulla traversa e poi il Montorio riparte alla grande il San Salvo non regge l'urto ma la delusione non è solo quella del Chieti anche quella del Giulianova perché al paterno basta un solo tiro sconfitto il Real Giulianova con gol al 37esimo della ripresa di Miocchi Martin Sicuro e River pari senza particolari emozioni e poi altro calcio Capistrello che vince 2-0 con lo spoltore Berardi e Leccese spianano la strada per la vittoria pari spettacolare nonostante sia finita 0-0 tra Cupello e Torrese che divertono ma gli attacchi restano a secco e poi Ruggeri salva l'angolana al 92esimo e rovina la festa del Miglianico giusto il tempo per leggere una notizia che riguarda il basket e gli Sharks di Roseto l'ultimo acquisto Coms si presenta pronto a dare il 100% per Roseto parla la guardia americana scelta da Di Paolo Antonio per sostituire Nelson questa esperienza sarà fantastica la mia prima volta al di fuori degli Stati Uniti sono le 9 in punto mattino 6 termina qui ma torna domani puntuale alle ore 8 io vi do appuntamento con tutte le notizie di giornata per la prima edizione del TG6 alle ore 14 è tutto buona giornata per la prima edizione Grazie a tutti.